Vasco Rossi non si fa mettere i piedi in testa da nessuno. Il cantante ha voluto rispondere a Gianluigi Paragone nella didascalia di una foto su Instagram. Il senatore del 5 metri S. aveva citato la sua canzone, C'è chi dice no, per rendere noto il proprio voto contrario sulla piattaforma russo riguardo alla possibilità di un governo giallo-rosso. Il post di Paragone. Il 3 settembre 2019 gennaio 11 5372 iscritti al Movimento 5 Stelle sono chiamati a esprimere con un sì o un no attraverso la piattaforma russo il loro giudizio sul possibile governo fondato sull'intesa tra 5 metri S. e P.D. Per annunciare il proprio voto contrario, il senatore Gianluigi Paragone ha pubblicato un post su Facebook. Io non ci sto, io non mi vendo a un partito ipocrita, ha detto nel video postato sul social network. Paragone ha citato una frase della canzone di Vasco Rossi, C'è chi dice no, per esprimere meglio il concetto. La replica del cantante? C'è chi dice no lo dico io. I politici devono mettere giù le mani dalle mie canzoni. C'è chi usa le mie canzoni per le sue campagne politiche e di opinione, voglio sia chiaro che io non autorizzo nessuno a farlo e per quello che mi è possibile cerco di impedirlo. Tanto meno si può pensare che io sia d'accordo con le opinioni di chi usa la mia musica per chiarire le sue idee confuse. Così Vasco Rossi, ha deciso di rispondere al senatore del 5 metri S. Gianluigi Paragone. La replica è la didascalia di una foto, pubblicata su Instagram il 2 settembre, in cui è ritratto mentre canta ad un suo concerto. Grazie.